Buongiorno, grazie a tutti i relatori per questa audizione, per questo intervento. Io apprezzo naturalmente gli sforzi che la BEI e tutte le istituzioni correlate hanno profuso e continuano a svolgere per raggiungere gli obiettivi di sostenere le imprese dell'Unione Europea, soprattutto in questo momento di difficoltà, però purtroppo devo rimarcare, come hanno fatto anche alcuni colleghi prima di me, che qualcosa non funziona nella catena di trasmissione dei finanziamenti e io lo posso affermare in relazione al territorio di mia appartenenza, cioè al sud Italia, perché purtroppo abbiamo visto anche in questo frangente come l'erogazione dei prestiti alle piccole e medie imprese da parte delle banche incontra dei problemi dovuti ai ritardi nel disbrigo delle pratiche di fido, ritardi che a volte anche culminano indinieghi, problemi riconnessi alla responsabilità bancaria in tema di riciclaggio e disciplina fallimentare, tanto che il Presidente Diabi è arrivato a chiedere al nostro Governo una sorta di immunità penale per le banche. Inoltre il fatto che i finanziamenti che la BEI rende disponibile agli enti locali lo siano soltanto al di sopra di una determinata soglia, che è quella dei 2 milioni, e che comunque non sia contemplata in questi finanziamenti anche la progettazione preliminare, rende di fatto inefficace questo strumento nei confronti degli enti locali, soprattutto appunto dei nostri territori, perché i progetti di importo minore, soprattutto da parte degli enti locali con minori risorse di bilancio, non si riesce ad averli finanziati. Io credo che ci sia bisogno soprattutto di un maggiore lavoro di comunicazione, di promozione delle possibilità che l'Unione Europea fornisce alle imprese, ma soprattutto al settore pubblico nei territori, soprattutto in quelli del sud, affinché vengano utilizzate al meglio tutte queste possibilità e che l'azione appunto della BEI e delle istituzioni correlate sia più efficace, arrivi veramente a destinazione. Grazie. Alcuni dei colleghi hanno parlato della capacità e della governance per agire direttamente in loco per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Vorrei ribadire le mie osservazioni sul hub di consulenza dell'Unione, il polo, che è uno degli elementi critici per tutti, per il settore privato, ma anche per il settore pubblico e quindi anche per gli enti locali. È un ruolo molto importante anche per InvestEU e anche per il futuro. In secondo luogo, la collaborazione con le banche nazionali per il sostegno alle imprese è fondamentale per migliorare l'efficienza, ma per affrontare anche le domande sul mercato che sono molto diverse da paese a paese. E come ha detto uno dei colleghi, non abbiamo parità di condizioni in tutti gli stati membri per quanto riguarda le capacità delle banche nazionali e degli istituti per il sostegno alle imprese. Quindi gli investimenti di fatto aumentano il valore, ma il polo consultivo, l'advisory hub, dà le informazioni necessarie per creare e istituire queste istituzioni. E do un esempio con un terzo elemento, la piattaforma per gli investimenti. Questo è un meccanismo attraverso le banche per il sostegno alle imprese e abbiamo creato attraverso le piattaforme per le SMI due piattaforme diverse che dovrebbero svolgere un ruolo anche nel futuro di InvestEU. E infine, cari colleghi, vorrei sottolineare anche un altro elemento per il futuro che ha a che vedere con una miglior possibilità di prevedere strumenti finanziari come EFSI e InvestEU in futuro attraverso sovvenzioni dai fondi strutturali oppure lo sviluppo rurale. La combinazione di strumenti finanziari e fondi, quindi EFSI e ESI, è fondamentale anche per il futuro. E infine, molti hanno parlato della risposta alla crisi e alla crisi Covid. Certo, stiamo aspettando la proposta della Commissione europea per il QFP a partire dal 2021 e in secondo luogo anche per il piano per la ripresa e in terzo luogo un InvestEU riveduto è corretto ma anche uno strumento per l'assolvibilità che dovrebbe trovare avvio subito con lo strumento EFSI. Ci attendiamo una proposta domani e noi cercheremo di fare del nostro meglio per far funzionare tutto questo. Stessa cosa anche per il fondo di garanzia, ma sarà il Vice Presidente McDowell magari a parlarne perché questo fondo potrà essere erogato direttamente attraverso una garanzia fornita dagli Stati membri. E poi da ultimo abbiamo anche il settore del turismo e il settore sanitario nella finestra, nella piattaforma per le piccole e medie imprese perché questi sono veramente colpiti come settori e EFSI e InvestEU e il fondo di garanzia dovrebbero concentrarsi soprattutto su questi settori in modo immediato e rapido, non contraddicendo comunque il Green Deal e il patto di Parigi. Anzi, dovremmo continuare con lo slancio di questi due elementi perché questo è fondamentale per la resilienza dell'Unione Europea in futuro. Grazie